Allora, è un dolce, una grande sera di sera, è un dolce della notizia, ma noi si realizzano a settembre e tenono questa nuova letta, ma c'è una notizia, una notizia, una notizia che viene parenti. ... ... ... La manzana con cioccolato di Campania è un patrimonio, non c'è stato fatto, non ci sbagli mai. Avere l'idea, facciamo un po' delle grazie di pensare alla cattivura, sempre con cioccolato, e poi, in una maniera, nel caso, in idea, stagionale, perché anche per l'indicatore, probabilmente, la stagione avuto più bello. Ci sta bene, quindi non c'è problema, e poi, per l'indicatore, per l'indicatore, per l'indicatore, e poi, per l'indicatore, per l'indicatore, per l'indicatore, per l'indicatore, per l'indicatore. Siamo sempre in dopo, rivisitando le ricette cioccolate. Allora, quando si deve partecipare a un evento? E che evento? Quello di Casolano. Anche perché poi, diciamo, sì, è stato un evento dove c'erano tutti i pasticceri, tutti i riscetti, però noi lo facevamo anche per un motivo particolare. e perché si doveva finanziare un certo tipo di... Beneficenza. 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 Un po' veramente semplice. Per funzionare. E quindi, quando si deve preparare un dolce del genere, beh, c'è da pensare sopra, perché, comunque, io non sono, non ho una pasticceria, però, comunque, non volevo fare printa figura da tutti i pasticceri che erano, che venivano da tutta Italia. e allora ho cercato di pensare, di realizzare questo dolce con la melanzana, per un po' per richiamare le nostre tradizioni. Quindi, all'interno c'è una melanzana da semi e semi candita, però con tutti i profumi e tutte le... tutto quello che c'è quando noi prepariamo la melanzana a settembre. Quindi con la cioccolata, con la carnetta, la melanzana, i nori, gli amaretti. All'interno c'è questo. Poi c'è un cremino, un cremino di cioccolata. Poi, non so se si vede, ma non si vede bene, c'è una spirale fatta con una mousse sempre di cioccolata. Poi un'antecolina ricavata, insomma, in un certo modo. Poi le torne, l'oro, ma sono comunque limiti perché è oro che si usa in pasticcella. I nori, l'arancia candita, è tutto quello che diciamo ci voleva. Devo dire che è piaciuto molto. Prima mio marito, che non lo sapeva, il dolce che preparava, che faceva quando l'ho visto. Non lo sapevo, non lo sapevo. Almeno lo aspetto, lo aspetto. E poi anche il cuore, lo abbiamo assaggiato nella propria cuore. Alle carsi baffi. Grazie. 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 uscire poi le bolle. Qua si vede com'era e com'è cresciuto, vedo le bolle più dopo una volta che ritassi, questa è la copaccia. E poi c'è un ultimo filmato, un piccolo filmato, ma un po' delle piccole cose che ho fatto, perché altrimenti ci voleva buca. Qui è da Casolare, con tutti i bolle. Questa è da Casolare quando ho fatto un altro evento, perché sono stata diverse volte. Qui invece è la prova del fuoco, quando una delle poche volte ha vinto. Poi i pasticcelli, ecco che tutti gli scelgono gli sky. Questi invece è ammonitri, è l'altra scena, è l'altra scena. E' il freddo, questo è qui, si ricorda, è un freddo. Poi il pasticcetto, quando ho fatto qua, invece è il posto. Questo è lo sguizzariello, lo chiamavano. Arome delizioso. E' buone anche queste biscotte, va bene. E' buone anche queste biscotte, va bene. Per l'orange wink, per quest'anno non hanno fatto. E qua poi ci sono anche un po' di ricette. Questa è la ricetta delle pizzette che ho preparato questa sera. Perché per questa sera ho preparato due cose. Ecco, le pizzette, quelle da buffet. Quindi sono quelle morbide, morbide. E sopra ho messo un pochino di prosciutto crudo, un pezzettino di fico e di noci di Michele. E mi ringrazio perché stamattina sono andata da lui e ho detto Michele, dammi le due luci che sono sicure, le più buone e quelle di sorprendendo, non solo. E così lo ringrazio ancora. E questo è quello che ho preparato le deliziose. Ho messo le ricette, non so se qualcuno poi se la vorrei cogliare, la prevedere. E' veramente un sito per un libro di più. E' veramente un sito per le di più. Nei libro ci stanno, non è? Ma ne è grazie. Si, si ci sono. Sono due ricette di delizioni. Si, si. Ho giunto quello. Ho fatto quello. Cosa dice? Cosa dice? Se… …